Sfida a squadre di caccia al cinghiale I cani Vediamo se scova Andrea vai I canai I cani hanno scovato, hanno baiato a fermura, sono un canizzo verso il lago I tiratori I premi del concorso Swarovski Optic e Benelli Armi La squadra dell'anno, dal 23 febbraio, ogni lunedì alle 21, su Caccia, canale 235 Grazie